Gianni Crosio, perché ha occupato i banchi del governo? Il Paese è in grande difficoltà. Gli italiani aspettano risposte. Il lavoro, gli esodati, la scuola, le aziende. E la risposta di questo governo è quella di abolire il reato di clandestinità. Una cosa assurda, dettata sola dalla demagogia della sinistra, seguita da Grillo, che, guarda caso, questa mattina, ha pensato bene di fare retromarcia. Però non si cancella un'idea solamente con un blog, solamente con postare qualcosa. Noi abbiamo fatto questa cosa in Senato, oggi, molto significativa. Abbiamo bloccato i lavori dell'Aula, io mi sono seduto ai banchi del governo, accanto al Ministro, proprio per far capire alla gente che in questo momento l'unica forza politica che capisce i reali bisogni del Paese, della gente, resta solo la Lega. Abbiamo protestato perché lo vuole la gente, perché nel Paese ci sono molte persone immigrate clandestine, anche l'ECO nella mia provincia. Non possiamo tenere sotto tono questo che è un vero e proprio blitz fatto ieri in Commissione Bilancio, su una proposta del Movimento 5 Stelle, peraltro senatore Grillini, che sono stati sconfessati dallo stesso loro capo. Quindi noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e non vogliamo che dopo l'indulto che svuota le carceri e libera tutti i detenuti carcerati, con l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, si aprano indiscriminatamente le frontiere. È stato proposto un emendamento da parte del gruppo di 5 Stelle che era volto proprio all'abrogazione dell'articolo 10 bis, che parla proprio del reato di immigrazione clandestina, ma non solo, ma anche della possibilità di depenalizzare tutti i reati attinenti all'immigrazione. Per quanto gli eventi degli ultimi giorni purtroppo tristissimi, la tragedia di Lampedusa ha colpito un po' tutti noi, però ci deve rendere conto che solo una normativa severa e rigorosa potrà impedire di alimentare le speranze anche di questi stranieri che cercano un porto nella nostra Italia. Con una normativa rigorosa invece e comprendendo che non si potranno utilizzare certi espedienti per arrivare in Italia, probabilmente, molto probabilmente, termineranno anche queste manovre veramente criminose da parte di questi scafisti e di coloro che stanno sfruttando proprio questa povera gente.